Nel giorno dell'Epifania in Regione 34.313 vaccini contro il Covid, tra cui quasi 27.800 terze dosi. Sono stati oltre 2.600 bambini dai 5 agli 11 anni vaccinati nell'open day dedicato. Intanto il Piemonte resta in zona gialla. Il Covid continua ad avanzare anche nel Biellese, i dati sono in evoluzione continua. Il reparto di terapia intensiva fortunatamente regge. A ieri mattina, secondo i numeri forniti dall'ASL Biella, i pazienti ricoverati erano 99. Di questi, 3 in terapia intensiva, 29 in terapia semi-intensiva, 67 in media e bassa intensità. Il 72% dei ricoverati, così come nelle proiezioni precedenti, risulta non vaccinato. Gli ingressi nelle ultime 24 ore si sono fermati a 9 contro i 6 dimessi. Procede naturalmente anche la macchina vaccinale. A ieri erano 126.284 le prime dosi nel nostro territorio, quindi il 79-65% della popolazione in età vaccinabile, 117.754 secondo dosi, con il 74-14%, 47.556 dosi aggiuntive. Quindi quasi il 30% della popolazione residente in età vaccinabile ha ricevuto la terza dose.